Beh, partiamo con la prima notizia, introduca. No, introduco, guarda, è una storia infinita, basta, va, questa è l'Italia, va, io non ce la faccio più, basta, 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 Luca, facci vedere, cioè, veramente, guarda, guarda, come si fa, guarda. 7 settembre, all'Italia, CAI, riparte la trattativa, 12 settembre, all'Italia, buon anno, CAI, non dia forfè, CAI, quasi fatta, ma cigelli di piloti frenano, la frenata, ultimatum di Colaninno, politica sporca, e poi all'Italia, CAI, situazione drammatica, ma basta, basta, è drammatica sì. CAI o non CAI? CAI o non CAI? È un mese, basta, fatevi un cristiano qualcosa. Ma parla che sia la firma, c'è la firma, c'è la carta. Sì, sulla carta, i geni, la carta di geni hanno fatto la firma. Poi, insomma, l'importante è che non la facciano sciolta, perché se no, Colaninno, Colaninno, attenzione. Va bene, speriamo che, insomma, si risolva.